Ciao e bentornati da Karin! Oggi mi trovo dentro alla mappa delle morph di Five Nights at Freddy's In questa mappa ci sono veramente tantissime morph La lista è praticamente infinita La mappa è stupenda e ci si può trasformare in un sacco di personaggi Intanto ve ne faccio vedere qualcuno Tadam! Abbiamo trovato Ginna! Guardate che stile! Eccola qua! In più, appena entrate vi potete immediatamente trasformare Sia in Moondrop che nell'aghi-waghi docile Vedete? È l'aghi-waghi senza i denti cattivissimi E andando in giro nei vari punti potete trovare tantissime morph Ad esempio qua si può ottenere il bot da pavimento bagnato Fatemi subito vedere com'è Fa già ridere Siamo un robottino che dice Attenzione! Pavimento bagnato Guardate qua! Ho il cartello anche io in casa Ma non è un robot Vediamo se gironzolando in questa stanza Riesco a trovare qualche altra morph Intanto questo cartellone è stupendo Con tutta la benda al completo Sapreste dirmi nei commenti i nomi di tutti e quattro? Scommetto che li sapete tutti Ma vediamo se qua in quest'angolo Demone Freddy Oh mio Dio! Ha addirittura una parte della faccia fluo Questa è veramente una morph da dieci e lode Ha anche l'orecchino Io ho i dilatatori quindi niente orecchini Al massimo mi infilo un dito nel lobo E voi? Ce li avete gli orecchini? Ma adesso vi farò vedere dove sono le nuove morph Ebbene sì, sono uscite delle nuove morph in questa mappa E una di queste si trova proprio all'interno di questa porta Ma prima prendiamo questa Una mascotte Una di sette Presa! Entriamo in questa porta e vi faccio vedere Una delle nuovissime morph uscite Che dovreste trovare proprio qua Sì! Al centro della stanza Ma già che ci siamo prendiamo anche l'axolot Freddy giallo Però non è una delle nuove morph uscite Questa c'era già Ma intanto mi danno la possibilità di hackerare qualcosa Perché non farlo? Hackeriamo tutto Il tuo hack è quasi finito Ricorda il codice Oddio non me lo ricorderò mai ragazzi Qual era il codice? Scrivetelo subito nei commenti Mi hanno dato hacker Freddy Hacker Freddy ha le unghie fluorescenti verdi E ha un sacco di codici tutto intorno a sé E questo sembrerebbe proprio il viso di Anonymous Sapete chi sono gli Anonymous, vero? Degli hacker! Ma proviamo subito anche le altre morph che ho appena trovato Questo era Freddy Axolot le giallo E guardate un po' che cos'ha Gli occhi fluorescenti gialli Lo sapete Io ho un debole per le cose fluorescenti Ma questa è la nuova morph Quella che hanno aggiunto con l'ultimissimo aggiornamento Guardate che braccia lunghissime che ha Bonnie, Bonnie Ma cosa ti è successo? Queste povere braccia Qua al centro possiamo anche ottenere la bambola Freddy Sentite questo rumore? Questa sarebbe Freddy versione bambola di Squid Game Ma voglio utilizzare la nuova morph dell'aggiornamento che abbiamo appena preso E che cos'è quella? È la mano di Mommy Long Legs Non mi dire che seguendo il braccio posso riuscire a prendere Mommy Long Legs Freddy Io provo a seguirla Vediamo dove mi porta Anche se non mi aspetto niente di buono Torno ad essere Karin perché mi sembra di essere troppo alto e non riuscire a passare qua dentro Facciamo questo inseguimento versione Karin Stiamo andando sotto terra Inizio sinceramente ad avere un po' di paura Lasciate subito un mi piace per infondermi un po' di coraggio E fatemi sapere nei commenti qual è la morph che vi piace di più tra tutte quelle che abbiamo trovato fino adesso O se ne avete una super preferita che di solito usate sempre in questo gioco Intanto sto continuando a seguire questo braccio lunghissimo E siamo arrivati Mamma gambe lunghe Sarebbe Mommy Long Legs appunto Non ci resta che andare ad equipaggiare Oh mio dio È gigantesca È enorme È più grossa di tutti gli altri Penso che sia veramente la più grossa di tutti per adesso Comunque la trovo veramente bellissimo Tra tutte le morph che abbiamo preso fino adesso questa è l'unica del nuovo aggiornamento Infatti voglio subito andare a prendere un'altra delle nuove morph Una di quelle che sono appena uscite E vi faccio vedere come andarla a prendere Qua si può prendere Freddy Ricco Dovete passare qua sotto Entrare dentro questo muro E qua potremo ottenere Tricky Clown Qua sopra passando si può prendere Pikachu Freddy E qui c'è Freddy Tossico Possiamo anche diventare la statua di Freddy Guardatela È proprio quella lì Voglio andare a provare tutte le nuove morph che ho trovato adesso Freddy Tossico Che ha gli occhi fluorescenti bianchi E sprigiona dal corpo queste particelle tossiche verdi È veramente bellissimo Freddy Ricco Che lascia dietro di sé tutta una scia di sbrilluccicante ricchezza Ha uno sciatro in mano Una collana d'arriccone Cappellino Occhiali È un glam rock Freddy ricchissimo Dopo aver fatto mille concerti Ha guadagnato veramente un sacco di soldi mi sa E abbiamo anche Freddy Pikachu Ma la morph che mi interessa di più vedere è quella del nuovo aggiornamento Ed eccola qua Veramente inquietante devo dire Siamo ufficialmente a quota 2 delle morph dell'ultimo aggiornamento Andiamo subito a trovare la terza Dobbiamo teletrasportarci nei tunnel E una volta qua dovremmo entrare nella porta rossa E proseguire a dritto da questa porta blu Che ci porterà in questo bagno E dovremo andare a distruggere questo muro Super forti Super distruttivi Torno Karin se no non ci passo Dopo aver rotto il muro abbiamo preso Hulk Vediamo immediatamente com'è Che belle chiappotte che ha Mi piace veramente tanto In sostanza è Bunny versione Hulkesca Teretrasportiamoci nell'atrio Con i nostri super addominali Guardate quanto sono grossi gli addominali di Hulk Ci andiamo a prendere la prossima morph del nuovo aggiornamento Che in realtà mi sono accorta che non c'è più Doveva essere lì doveva esserci un creeper Ma non c'è Dov'è? L'hanno tolta Forse per motivi di copyright non ne ho la più palida idea In sostanza sareste dovuti diventare dei creeper Esattamente fatti così Celetrasportiamoci di nuovo nella lobby adesso Basterà andare da questa parte Da quanto ho capito dovrebbe essere vicino alla mano di Mami Longlegs Ma prima di prendere la nuova morph dell'aggiornamento Voglio prendere Nano da giardino Questa non è del nuovo aggiornamento Ma mi fa talmente ridere Che la volevo troppo prendere Dai Qui accanto abbiamo anche vecchio Freddy Non è nuova nemmeno questa Ma devo dire che è veramente bellissima Qua c'è un teleport Entriamoci e guardate dove ci troviamo Soltanto Hulk può respirare nello spazio Quindi equipaggiamo la nuova morph dell'aggiornamento di Hulk E andiamo a cercare quella nuova I salti sono molto diversi E noi dovremo saltare fino ad arrivare su quel pianeta rosso laggiù in fondo Mi sono accorta però che con la morph di Hulk siamo veramente troppo pesanti E quindi si fanno dei salti molto più piccoli Vi consiglio di mettere la vostra skin invece che quella del personaggio di Hulk Con questa si fanno dei salti nettamente più grandi E in questo modo potrete arrivare molto più velocemente al pianeta rosso Ci sono quasi ci sono quasi Pianeta rosso sto arrivando E' veramente tutto super buio Sono sopra il pianeta e mi sembra di vedere una navicella spaziale Prendiamoci Alien Fred Oddio eccolo qua In testa ha una piccola navicella Ha gli occhiali neri O forse sono occhi da alieno non lo so Le orecchie che dovrebbero sembrare antenne Una piccola mitragliatrice sulla spalla Un'arma futuristica al fianco E un bracciale futuristico sul braccio Molto molto bello questo alien Freddy Mi piace E' il momento di teletrasportarci al museo Ed è proprio qua che potremo riuscire a prendere una delle nuove morph dell'aggiornamento E con questo bellissimo Freddy alieno vado subito a farvi vedere dov'è E' esattamente là su quella stellina Vedete ci sono due ali E noi dobbiamo riuscire ad arrivare lassù Come potete notare c'è una specie di ponte nascosto Totalmente trasparente Di un leggero violino E per arrivarci dovremo fare una sorta di parkour Torno ad essere Karin e iniziamo il nostro parkour Piano piano ce la possiamo fare eh Piano piano buono buono Ed eccolo qua finalmente Fallen Angel Ufficialmente preso Secondo me è stupendo Perché ha sia i denti Che gli occhi Che gli unghioli Sia delle mani Che dei piedi fluorescenti E anche una parte del viso E come sapete si Io amo le cose fluorescenti Come se non bastasse Ha anche questo strano alone bianco Che esce da tutto il suo corpo Lo adoro Questa Morph è veramente stupenda Ce ne manca soltanto una da prendere Andiamo all'asilo Da quel che so Dovremmo scendere qua sotto E correre 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 Fino ad arrivare dalla parte opposta della stanza E vediamo che Morph ci aspetta Eccola la vedo È laggiù in fondo Morph sto arrivando Ma che cos'è? Mi sembra tipo un cumulo di macerie Delle rocce Ma sprigiona una strana energia È il martello di Thor Ha fatto anche il flash Questa era l'ultima Morph dell'aggiornamento Ed eccolo qua Thor Con gli occhi brillanti E anche la tutina Che brilla Fluorescente azzurra Quindi abbiamo un Freddy Thor Con il suo martello E il suo mantello Qua in giro ovviamente Si possono trovare tantissime altre Morph Tipo Freddy Astronauta MLG Freddy Che era dentro questa lattina E butta fuori dal corpo Tantissimi coriandoli di tutti i colori E dentro il parco divertimenti C'è anche l'Axolot Blue Eccolo qua Guardate quanto è carino Per oggi comunque Abbiamo trovato tutte le nuove Morph Dell'aggiornamento Mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Qual è stata la vostra preferita Lasciate un pollicione in su E iscrivetevi al canale Per non perdervi tutti i prossimi video Da carino è tutto E ci vediamo in questa mappa Al prossimo aggiornamento Ciao